Il discopolo di Sciacca insieme all'istituto Pirandello di Campobello, insieme per un progetto denominato lo sport per il futuro. Si tratta di un progetto sviluppato in due differenti campus, uno adesso e uno a giugno. Un progetto, una collaborazione che viene portata avanti da 18 studenti di età compresa da 11 a 14 anni che hanno svolto diverse attività, soprattutto sportive ma non solo, anche culturali e teatrali e legate al mondo dell'arte. Un progetto che è stato voluto dal MIUR e che è stato sviluppato in questi giorni a Sciacca. Si tratta infatti di campus non residenziali. Ci spiegano i dettagli Marinella Riggio del discopolo e il professore Nino Mirabile dell'istituto Pirandello di Campobello. Si tratta particolarmente di un'attività di integrazione e di inclusione sociale, dove praticamente siamo di contrasto alle problematiche e al disagio giovanile tipico di questa età. Si tratta di una scuola di Campobello di Manzara. Infatti il campus è un campus non residenziale e favorisce appunto lo sviluppo dei ragazzi attraverso l'attività fisica e attraverso le varie attività che si sono svolte. Quali sono le attività che avete svolto in questi giorni? Loro hanno fatto attività sportiva con la ginnastica aerobica, con la scherma, con il nuoto e poi le varie attività di collaborazione sono stati i laboratori, il laboratorio artistico, espressivo e il laboratorio teatrale, dove praticamente i ragazzi hanno tirato fuori attraverso l'espressione emozionale tutto quello che avevano appreso con l'attività fisica. Ci sarà anche un altro campus? Sì, questo è il primo weekend, il secondo weekend sarà nel mese di giugno, esattamente dal primo al tre di giugno. È stato questo, diciamo, l'unico campus che è stato approvato dal MIUR in Sicilia come campus residenziale. Andiamo da Campobello, l'istituto comprensivo Pirantello San Giovanni Bosco. Come ha detto la Marinella, è stata l'unica scuola in cui è stato accettato questo campus residenziale e poi tramite ricerche abbiamo trovato questa struttura che ci ha fatto da partner. Ci siamo trovati molto bene e sono stati molto gentili. Il primo approccio l'ho avuto con Marinella che siamo partiti insieme per Roma assieme a il professor Ruppino, l'altro referente. Volevo ringraziare la preside Giulia Fravio che ci ha dato questa possibilità di passare tre giorni con ragazzi eccezionali che si sono molto impegnati e hanno fatto tutto con molto amore e molta concentrazione. Hanno fatto delle attività che qualcuno di loro non aveva mai fatto, ma ci hanno fatto emozionare. Grazie. Grazie.